Edoardo, allora, com'è andata? Mi direi male perché abbiamo preso la legna in 16. Ma come mai? Cioè, all'inizio so che stavate, tra l'altro, perdendo di brutto. Poi però vi siete svegliati. No, comunque c'è anche il nostro difensore, Nicolo. Appena ritorna, cambiano i risultati. Come sono andati, diciamo, gli altri? Da Francesco, te, Luciano, tutti. Perché, insomma, siete partiti tipo 6-7 gol sotto subito, si può dire. Poi però vi siete svegliati. Ci siamo organizzati. Però troppo tardi. Che cosa è andata secondo te? La difesa, come al solito. Appena ritorna Nicotra, vinceremo la prima partita. Quindi diciamo che la chiave di volta sta proprio nel ritorno di Nicotra. Sì, sì, così. Va bene. Va bene, Edoardo, alla prossima. Ciao.